Nonostante le molteplici difficoltà che gli studenti scolastici di qualunque grado hanno affrontato per arrivare preparati a questo giorno, il 28 settembre è arrivato ed anche ad Agropoli le scuole riaprono e gli studenti dopo sei mesi ritornano in classe. Il modo di fare scuola è inevitabilmente cambiato ma gli istituti agropolesi non si sono fatti trovare impreparati. Il ritorno a scuola è delicato per la situazione che si sta vivendo in campagna ma necessario e con una grande mole di lavoro fra gli ingressi scaglionati, dispositivi di protezione, banchi monoposto, distanza interpersonale, gel e igienizzante, gli studenti hanno avuto la possibilità di tornare in aula. Questa mattina al liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli, momenti emozionanti all'entrata degli alunni a scuola con in sottofondo la musica di Ennio Morricone, compositore di fama internazionale che pochi mesi fa ci ha lasciati e con una gigantografia di Willy Monteiro Duarte. Il ragazzo romano pestato è ucciso poco meno di un mese fa. Due dei personaggi simbolo del momento sono stati omaggiati dall'Istituto Agropolese, ingressi scaglionati alla Vico de Vivo dove non tutti gli alunni sono tornati a scuola in attesa dell'arrivo dei banchi monoposto, la didattica a distanza ancora fondamentale per superire a questa mancanza momentanea che permetterà agli studenti di alternarsi allo studio sia da casa che in classe. Non ci sono stati invece ingressi scaglionati alla Gino Rossivairo, al contrario di come era previsto. Questa mattina rientro a scuola anche per i ragazzi delle medie che nonostante qualche assembramento all'esterno della struttura hanno ripreso senza intuppi le lezioni dopo tanti mesi di assenza dalle aule. I genitori hanno evidenziato questo disagio che è avvenuto nel cortile della scuola. Anche i bambini delle scuole del primo circolo didattico Gino Landolfi e dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco sono rientrati regolarmente in classe tramite due entrate nel plesso accolti da insegnanti e collaboratori scolastici nel totale rispetto delle normative anti-Covid.